benvenuti in questo nuovo video di giardinaggio oggi quello che voglio farvi vedere è come coltivare piante di cavofiori partiamo dal terreno il terreno deve essere abbastanza morbido e molto ricco di sostanze nutritive possiamo usare sempre concimi biologici che non fanno male né a noi e né al terreno e neanche la pianta stessa la distanza tra una pianta l'altra è di circa 50 60 cm la pianta tende a crescere abbastanza larga quindi dobbiamo dare abbastanza spazio per far sì che può crescere tranquillamente per quanto riguarda le annaffiature i primi giorni dobbiamo annaffiarle 1 o 2 volte al giorno poi man mano dobbiamo soltanto annaffiare quando necessita dell'acqua diciamo quando il terreno è asciutto se questo video ti è stato utile in qualche modo iscriviti al mio canale e lascia un pollice in su ciao al prossimo video